Ciao a tutti amici del Sagittario, benvenuti nuovi e bentornati agli iscritti. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene? Mostrami Sagittario, tendenze affettive per la prima parte di settembre 2022. Grazie. Abbiamo l'appeso, amici del Sagittario. Probabilmente è un periodo di riflessione, è un periodo dove ci si prende un tempo. Per qualcuno potrebbe essere un riposo forzato, per qualcun altro invece un tempo volontario, una pausa che ci si prende da qualche situazione o da qualche relazione. La carta dell'appeso normalmente dà la possibilità di vedere le cose da un altro punto di vista. Andiamo a vedere con gli oracoli che cosa vi dicono. Ok. Wow! Cuore fedele, carta numero 35. Qui si parla di, come dice giustamente la carta, un cuore fedele, un cuore che non è detto che sia necessariamente una relazione di coppia, ma nella maggior parte delle situazioni sì, però potrebbe anche essere semplicemente due amici o, non so, due fratelli, due cugini che sono fedeli l'un l'altro, che hanno un certo tipo di responsabilità anche nei confronti dell'altro, io direi. E' una bellissima carta, i gufi poi sono anche di buon auspicio, quindi è una bellissima carta. Andiamo a vedere con i tarocchi che cosa vi dicono. Io intanto vi ricordo che le letture sono comunque fatte per un collettivo, quindi potrebbe non risuonare tutto. Voi prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se non risuonasse nulla o voleste completare il messaggio, potete sempre ascoltare ascendente, segno lunare o venere. In caso vogliate contattarmi, poi trovate la mia mail nella descrizione qui sotto il video. Cominciamo con una bella stella, quindi qui si parla di qualche tipo di desiderio, di obiettivo. La stella riguarda anche i sogni, sia quelli che si fanno ad occhi aperti, sia quelli che si fanno ad occhi chiusi. Quindi potrebbe essere che per qualcuno in questo periodo sia molto importante tutta l'attività onirica. Quindi magari potrebbe essere utile prendere un quaderno e scrivervi i sogni il mattino quando vi svegliate. C'è in qualche modo una sorta di canalizzazione attraverso i sogni e il subconscio che ci parla. Quindi qui si tratta proprio di far caso ai segnali del subconscio. Abbiamo un 3 di coppe al contrario e qui in effetti normalmente il 3 di coppe parla di amicizie, di qualche tipo di incontro. Sì, sembra quasi che o sia venuto meno un incontro o un'amicizia addirittura. Andiamo poi a vedere con i mini terocchi di che cosa si tratta. Abbiamo un 2 di bastoni e ci parla di una sorta di indecisione se andare avanti o rimanere lì dove siete. Quindi suppongo che la questione sia se muoversi da questa situazione di appeso oppure se andare avanti verso questo cavaliere di coppe. Sento che per molte persone si tratta di fare un passo in avanti verso questa amicizia, verso questa persona, insomma, verso questo cuore fedele, diciamo così. Ma il cavaliere di coppe ci dice che c'è una sorta di difficoltà. La vediamo un po' qui nell'indecisione del 2 di bastoni. Molte persone non sanno se farsi avanti, se quindi uscire, diciamo, da questa situazione di stand by, magari di blocco. Oppure se rimanere lì ancora un po' per schierirsi le idee. Uh, guardate, abbiamo gli amanti, un bellissimo su di coppe, un imperatore e un 2 di spade. Beh, direi che l'assesa finisce molto bene, perché abbiamo la carta degli amanti che è la carta degli innamorati, appunto, dell'equilibrio, dell'amore corrisposto. Quindi sento che per le persone che hanno una relazione più o meno stabile si può passare a quello che è il livello successivo, si può passare a quello che è un equilibrio. Diciamo che qui sento che è come se quello che poteva essere un'amicizia si può trasformare in qualche cosa di più. Quello che poteva essere il sogno si va trasformando via via di più. Abbiamo anche un bellissimo asso di coppe che parla proprio di un nuovo inizio del cuore, un nuovo inizio con abbondanza. È quello che è l'apertura del quarto chakra, quindi questa, come vi posso dire, queste flebo di amore che arriva e che vi apre il cuore. Abbiamo poi, per finire la lettura, la carta dell'imperatore e un 2 di bastoni. Qui sento che con la carta dell'imperatore si va verso quello che è una stabilità della relazione o si definisce meglio quello che potrebbe essere la situazione, come costruire qualche cosa di stabile. L'imperatore è una carta numero 4, quindi molte volte fa anche riferimento a proprio quello che è una casa, una stabilità, magari per qualcuno una convivenza. Diciamo che ci si sta lavorando, ok? Perché comunque qui abbiamo un 2 di spade e qui vi ricordo che eravate nell'indecisione, quindi c'è ancora qualche cosa da valutare, ma il sentimento che ho è quello proprio che si vada verso un'armonia, verso una stabilità, verso qualche cosa di nuovo e di più bello. Ok, andiamo a vedere carta per carta. Andiamo a vedere la stella, per piacere, grazie. Ok, un'altra stella è uscita, al contrario. Allora, abbiamo un 10 di spade al contrario, la stella al contrario e la regina di coppe al contrario. Dunque, qui con questa stella si vuole chiudere qualche tipo di ciclo, qualche tipo di... Si ha bisogno di chiudere il ciclo di sofferenza. Abbiamo anche l'appeso, l'appeso dice proprio quello, no? In un certo senso ci si rassegna un po' a quello che è stato, ci si rassegna al fatto che probabilmente quello che era il vostro sogno, il vostro desiderio, deve essere un po' ricalibrato, diciamo, perché probabilmente così come lo volevate voi, creava un po' di scompiglio con questa regina di coppe al contrario. Il 10 di spade è l'arcano minore della morte e comunque qui c'è bisogno di una sorta di rigenerazione, di una sorta di trasformazione. È un po' come se questo obiettivo andasse un po' rivisto, tutto lì. Andiamo a vedere il 3 di coppe. Abbiamo un 7 di pentacoli, la carta del sole e un fante di coppe. Qui sento molto forte il ruolo dell'amicizia, sento che c'è qualcuno che vorrebbe quel qualche cosa in più, vorrebbe poter vivere l'essenza della relazione, vorrebbe poter parlare apertamente. Sento che c'è la voglia di stare di più insieme, c'è la voglia di far crescere questa relazione, di far crescere questo... Guardate, per qualcuno si potrebbe trattare di un figlio, perché ho la carta dell'attesa, che è anche la dolce attesa, il sole fa riferimento molte volte ai bambini e anche ai fanti. Quindi per qualcuno si potrebbe trattare magari della volontà, quello che dicevo, il passo successivo potrebbe essere proprio la volontà di avere un figlio. Per qualcun altro semplicemente vivere un po' di più la relazione, vivere l'essenza dell'unione. Andiamo avanti, vediamo il 2 di bastoni. Abbiamo la carta della forza e il 2 di bastoni, di nuovo. Quindi qui il punto è che avete bisogno di trovare coraggio, di trovare quello che è la giusta direzione da prendere, direi. Siete in una fase dove state facendo delle valutazioni, se rimanere nella posizione in cui siete, o se pretendere o chiedere di più, o magari offrire anche di più, c'è qualche cosa che... Sento che avendo la carta della forza è un po' come se vi mancasse il coraggio, è un po' come se... La carta della forza è la carta del quarto e del terzo chakra, no? Io la sento molto collegata a quei chakra. E qui si tratta veramente di fare un lavoro di apertura del cuore, un lavoro di... Ok, fidarsi anche di se stessi, delle vostre capacità percettive, di quello che sono i vostri desideri, le vostre canalizzazioni, di quello che potrebbe essere giusto per voi. Sento che vi manca fondamentalmente il coraggio di fare questa comunicazione o questa offerta. È solo quello, l'indecisione. Andiamo avanti con il cavaliere di coppe. Ok, abbiamo un 10 di coppe, un fante di bastoni e un 6 di pentacoli al contrario. Allora, qui la difficoltà nel porsi, nel fare questo tipo di offerta, nel ricevere questo tipo di offerta, perché per molte persone è anche difficile ricevere, e che qui ci sono dei dubbi per quello che riguarda l'equilibrio della relazione. Nel senso che probabilmente, con questo 6 di pentacoli al contrario, c'è una sorta di disequilibrio tra chi dà e chi riceve. Abbiamo anche un fante di bastoni che denota un po' di egoismo da parte di uno dei due. Andiamo a vedere la carta degli amanti. Wow, 6 di bastoni e cavaliere di coppe. Ragazzi, fare quella offerta o ricevere quell'offerta sarà la scelta giusta. Vi darà la possibilità di essere riconosciuti, vi darà la possibilità di iniziare qualche cosa di nuovo. È la carta del successo, è la carta della vittoria. Abbiamo la carta degli amanti. Qui abbiamo un nuovo amore che inizia, un nuovo tipo di stabilità all'interno della coppia. Fatemi vedere, ok, fante di, scusate, cavaliere di bastoni e un altro asso di coppe. Si inizia, wow, ma che sarà un periodo stupendo, ragazzi, guardate. Nonostante l'inizio, forse qui con questo 10 di spade, questa vostra un po' così indecisione, ma io sento che nel momento in cui passerete attraverso l'accettazione di cui ci parla l'appeso, accettazione anche dell'altro, per com'è, per com'è... con pregi e difetti. Si inizierà veramente qualche cosa di bello. Andiamo a vedere l'imperatore, per piacere, grazie. Abbiamo una regina di denari, al contrario. E un otto di denari, al contrario. Sì, qui, guardate, a livello emotivo è tutto fantastico. Sento che è tutto molto equilibrato. Quello che forse manca è un po' di equilibrio a livello pratico, ed è per quello che c'è l'imperatore alla fine. Parla proprio di una questione legata o al lavoro o a quello che è il vostro potere personale a livello pratico all'interno della relazione, ok? Perché la relazione in sé è bella, sia da un punto di vista emotivo, sia da un punto di vista proprio passionale, della passione, dello scambio. Abbiamo gli amanti, è una carta di forte equilibrio. E abbiamo anche questa carta che veramente parla di un amore di quelli belli, puri, con la maiuscola. Però qui fondamentalmente il punto è trovare un equilibrio da un punto di vista della praticità. Può essere o del lavoro, nel senso che qui avete bisogno, magari lavora solo uno dei due, e c'è bisogno appunto di trovare maggior stabilità, in questo senso, per quello che riguarda la vostra sede abitativa o abitudine abitativa. Ok, allora, andiamo a vedere qualche carta in più per i single, perché ovviamente i single potrebbero non avere nessuno, magari hanno solo qualcuno in testa, oppure hanno qualcuno che non stanno ancora valutando. Andiamo a vedere. Infatti potrebbe essere un amico, un amico dal quale si stanno difendendo, perché c'è ancora questo 3 di spade all'interno di voi, c'è ancora questo 10 di spade, la confusione a livello emotivo di cui ci parla la regina di Coppa è il contrario. Guardate, in realtà vi consiglio di rivalutare questa amicizia, ok? Cercate di non schermarvi molto, è giusto mettere le barriere, però certe volte è anche giusto appunto aprire il cuore, metterci un po' di coraggio, no? Cercare di accettare quello che la vita di bello ha da offrirci. Ok, andiamo a vedere. Per qualcuno potrebbe anche essere che questa amicizia, in qualche modo vi ha ferito nel passato e abbiate messo queste barriere. Però, nello stesso caso, vi consiglio di accettarlo come un avvenimento passato, perché veramente si prospetta un bel periodo. Andiamo a vedere per chi è già in coppia, per chi ha una relazione stabile. Abbiamo il carro, un 2 di pentacoli, qui anche si parla di una sorta di equilibrio da un punto di vista pratico, da un punto di vista fisico, proprio perché comunque abbiamo il carro che parla di movimenti, di viaggi, probabilmente per qualcuno si tratta di uno spostamento, di un trasloco, perché anche qui abbiamo la giustizia, parla di contratti, qui avevamo la carta dell'imperatore che poteva parlare di una casa. Sento che anche qui la questione è molto impostata su qualche cosa di pratico, su qualche cosa di, magari anche ciclico, su qualche dinamica che si ripete e attraverso la quale bisogna decidersi a passare. Però avete la carta della giustizia e quindi c'è qualche cosa che in qualche modo, avendo un 2 di pentacoli, tende a ripetersi, ma si ripete per una questione di giustizia divina. C'è qualcosa qui in questa situazione, in questo spostamento, in questo movimento, in questa decisione che dovete prendere, che per voi è un insegnamento a livello caramico, vi può insegnare cosa è necessario tagliare. Ok, ultimo gruppo, andiamo a vedere per chi ha una relazione, diciamo a distanza o un po' più complicata. Quindi a distanza, in separazione o clandestina. Un altro 7 di pentacoli, questa volta al contrario. Vediamo che è altra carta. Wow, 2 di coppe e 7 di pentacoli, al contrario ragazzi. Non sarà più il caso di aspettare, l'attesa è finita, ok? Arriva il 2 di coppe, arriva la carta degli amanti, arriva quello che è la relazione che voi avete sempre desiderato, quell'unione, quel coinvolgimento. Abbiamo un altro 3 di coppe e un'altra volta è la giustizia. C'è qualcosa qui che arriva per giustizia divina, eh? E sento che per molti è questa amicizia che si trasforma. E anche per le persone che magari sono in una relazione clandestina, sento che si va ad un passo successivo. c'è qualche cosa veramente di più. Ok, bene. Andiamo a vedere una carta da parte delle fatine per chiudere la lettura. vediamo che consiglio vi danno. È un bellissimo periodo, è comunque amici del Sagittario. Devo dire che si va verso l'equilibrio, l'armonia, l'apertura del cuore, l'abbondanza d'amore. Sì, c'è qualche cosa da aggiustare a livello pratico, a livello tecnico, magari lavorativo o burocratico, visto che in due dei tre gruppi c'è la giustizia. Però si va verso una maggior stabilità. Guardate, amicizia, ma che bello. Qui queste fatine vi incoraggiano a tenere sempre presente chi vi ha incoraggiato nei momenti difficili, chi vi è stato vicino nei momenti difficili. Sì, sento qui che ha molto a che fare con un'amicizia che diventa qualche cosa di più. Potrebbe essere qualche cosa di nuovo? Assolutamente sì. Ma per qualcuno è un'amicizia che non è proprio un'amicizia, è più una conoscenza che magari si ha da tempo, però non è neanche una vera e propria amicizia, è solo una conoscenza che potrebbe diventare qualche cosa di più, insomma. Amici del Sagittario, questo è quello che avevo per voi, spero in qualche modo la lettura vi sia stata utile. Vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!